Gli alunni della scuola di Colonnella a settembre torneranno sui banchi a Corropoli, nell'edificio di Ripoli, che in passato ha ospitato il liceo aeronautico. E' questo per tutto il tempo necessario per demolire l'attuale edificio scolastico ed edificarne uno nuovo dopo aver fruito di un maxifinanziamento. Si è concluso, sul piano formale, negli ultimi giorni, uno dei passaggi più importanti per la giunta comunale di Colonnella, impegnata nel trovare una soluzione ottimale anche sul piano finanziario per traslocare la didattica per tre anni scolastici in una nuova sede. Sotto questo aspetto è stato trovato un accordo col comune di Corropoli, che concederà in comodato gratuito l'ex scuola di Contrada Ripoli, dove troveranno ospitalità 14 classi delle scuole elementari e medie per un totale di circa 300 studenti. L'alternativa a questo luogo sarebbe stata la dislocazione in container posizionati nel campo sportivo, il cui costo non sarebbe stato lontano da un milione e mezzo di euro, mentre imparagonabili sarebbero state le difficoltà per ragazzi e insegnanti costrette a lavorare nei moduli con l'alternarsi delle stagioni. Stiamo facendo le attività propedeutiche per immaginare dove la scuola, verosimilmente per un paio di anni il tempo di abbattere e ricostruire, debba essere trasferita. In questi giorni proprio ci stiamo occupando delle parti logistiche per dire quale è il posto migliore per locare le nuove attività temporaneamente. Stiamo facendo un lavoro di sgrezzatura del progetto dopo che abbiamo certezza che questi finanziamenti sono arrivati. È un'opera importante, credo qualificante per una comunità ovviamente che invecchia, perché il fatto delle nuove leve della scuola significa nuova forza, nuova vitalità del comune, quindi è una materia estremamente importante non solo per il valore dell'attività che andremo a compiere dal punto di vista economico.